tra Innsbruck e Tonia, una specie di derby con Schumacher in grande evidenza, Schumacher che dopo, ecco l'interno di questa grande parata, dopo i litigi con la sua società evidentemente ha fatto pace, è stato nuovamente schierato in formazione il portiere della nazionale tedesca, protagonista di questa grande parata nel corso del primo tempo. Nella ripresa l'Innsbruck riesce a segnare, qui intanto vediamo però un attacco del Colonia che impegna a sua volta la difesa dell'Innsbruck e il portiere è altrettanto bravo a rispondere al collega con questo volo sulla destra. Il gol decisivo è messo a segno al 25esimo minuto da Gross, come vedremo trovano spazio per una volta gli attaccanti dell'Innsbruck nella difesa del Colonia e Gross è molto bravo sull'uscita di Schumacher a scavalcarlo con questo preciso pallonetto che determina il risultato, Innsbruck 1-0, un inizio non felicissimo per una formazione come il Colonia molto quotata, il campo internazionale è una delle aspiranti a poter vincere questa Coppa delle Coppe edizione 1983-84, vediamo Gross che si insinua molto bene e molto abile nello a scavalcare Schumacher col pallonetto del cielo.